In un'intervista rilasciata Verissimo in onda su canale 5 sabato 4 dicembre Paola Ferrari è tornata a stuzzicare di Letta Leotta. Nello specifico il volto della Domenica Sportiva ha negato la relazione tra la conduttrice siciliana e l'attore turco Kenny Aman. Una relazione durata solo sei mesi ma che ha fatto chiacchierare a lungo. Secondo Paola Ferrari si sarebbe trattato solo di una storia d'amore mediatica e nulla più. La bionda presentatrice l'aveva già spifferato una volta ed ora è tornato a confermarlo a Silvia Toffanin. Non ci credo perché ha conoscenza di una sua passione importante per un'altra persona. Ma fa bene a divertirsi. Paola Ferrari ha poi aggiunto sempre a proposito di Diletta Leotta. Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro. Non è l'arma della seduzione che serve per essere credibile. Ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In questo modo diventiamo merce interscambiabile. Diletta Leotta e Kenny Aman risponderanno presto alle insinuazioni di Paola Ferrari? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.